Buon pomeriggio ragazzi! Allora, pollicione, iscrizione, campanellina, condivisione, se vi va e se volete sostenere il canale potete abbonarvi a 99 centesimi, che è comunque un segno di supporto morale. Parliamo della conferenza del ramarro. Però se vi aspettate un'asfaltata generale non sarà esattamente così, perché una parte la salvo, una parte, che produrrà un'asfaltata in diretta. Sul resto ci vado col blindato. Partiamo dalla parte che salvo, la questione della scuola. Giustamente ramarro fa notare che è importantissima la scuola in presenza. Ha la beatissima faccia di certi paracolleghi che amano la dad perché così non fanno un cazzo. E ha la faccia ancora di più di certi pseudocomici, qui lo dico dopo alla fine, che amano la dad perché non sanno esattamente cosa cazzo vuol dire insegnare. Perché la situazione degli insegnanti dal punto di vista della copertura è più che ottima. L'ha detto... Eh, salve, sono Locatelli. Vabbè, l'ha detto Black & Decker, un uomo che quando parla ti addormenti. Per cui sono d'accordissimo in questo senso. Si deve evitare il più possibile che i ragazzi siano ancora segregati in casa, con danni psicologici, e con danni dal punto di vista dell'apprendimento che non si possono recuperare. Perché si accumulano. Si accumulano nel tempo e creeranno comunque uno svantaggio per questi ragazzi, soprattutto in un mondo in cui il lavoro è poco e se dovranno scegliere di cercare lavoro fuori dall'Italia si troveranno svantaggiati rispetto a paesi che non si sono proprio mai fermati in questo senso. E soprattutto sono contento perché l'ha preso in quel posto, sia De Luca che Emiliano. E creiamo un punto per questi due gentiluomini. De Luca che sbraita dicendo che i ragazzi saranno usati come cavie. Che cazzo hai fatto tu per migliorare la situazione delle scuole in campagna? Te lo devo dire io che non hanno fatto una sega. Emiliano, tu cosa hai fatto nella tua regione per migliorare le cose? Devo dirti lui che non hanno fatto una sega, però tutte e due scaricano i problemi da una pa è a colpa del governo. Come il problema dei posti di lavoro per De Luca, no? Non c'era gente che andava a lavorare per colpa dell'RDC, qui la colpa è del governo. Tu sei il governatore di una regione, cominci a investire nel miglioramento della situazione scolastica, nei mezzi pubblici locali per il trasporto degli studenti. Magari investendo anche nella sistemazione delle aule e di determinate scuole, perché in campagna ci sono scuole che letteralmente stanno su con lo sputo e adesso il discorso si può fare per Emiliano. Cioè, prima sistema i casini, poi potrei fare il critico verso le decisioni del governo. Io questa, sulla questione che i ragazzi devono stare in presenza per me, è indispensabile anche dal punto di vista sociale e psicologico. L'isolamento non fa bene agli studenti, non fa bene ai ragazzi. La socializzazione sì. Però poi, come si suol dire, tolto questo piccolo, questa piccola cosa positiva su cui il ramarro ha picchiato parecchio, anche con la condiscendenza di alcuni giornalisti lecchini dall'annunziata e così. Poi per fortuna qualcuno si è ricordato che devi fare il giornalista. Passiamo alle altre questioni. Allora, è Speranza che mostra un grafico fatto per bambini di due anni, con gli omini grandi e gli omini piccoli, per spiegare qual è la situazione negli ospedali. Va benissimo, però mi deve anche spiegare perché se la situazione... Cioè, perché di fatto, anche qui, non si è potenziato in due anni il personale, non si è aumentato il personale, perché qui cominciano a volare un'altra volta le voci di interventi necessari che vengono posticipati. Cioè, se si torna a... Facciamo solo gli interventi salvavita e gli altri li posticipiamo. Ragazzi, soprattutto nel settore oncologico, ma non solo in quello, posticipare, peggiora il danno. Anche se tecnicamente si può, peggiora il danno. Ci sono interventi che, se fatti in un determinato momento, poi provocano degenza e convalescenza di un certo tipo. Se li sposti, allungano i tempi. Ok? Non stiamo parlando di chissà cosa. Io prendo l'esempio della Lidia, eh. La nostra cara Lidia, tre mesi e mezzo di ospedale. Se non ci fosse sta... E tra l'altro è andata a casa del signore, tecnicamente. Secondo voi, in condizioni normali, avrebbero avuto bisogno di spedirla a piancavallo? Non c'erano strutture nel milanese? No, ci sono, ma sono occupato e bloccate. E il discorso è generale. Perché poi qui cosa succede? Che si crea questo imbuto e si ritarda tutto. Ma non si può ritardare indefinitamente determinate cose. C'è gente che è più di un anno che aspetta. E ve l'ho detto, io, a differenza di quello che dice Esperanza, di quello che dice Il Ramarro, di quello che dice Locatelli, io non do tutta la colpa. Ai non zaccati. Perché si sapeva che c'era questo problema. Ma di fatto voi non avete fatto un cazzo per potenziare i reparti, per aumentare le terapie, per aumentare il personale. Vi siete adagiati sperando che ha da passare la nottata. La nottata non è ancora passata e i risultati sono ancora questi. Se sai che in un settore servono investimenti, ce li butti dentro a nastro. Non butti soldi in puttanate come bonus assolutamente inutili, o peggio ancora bonus riservati a persone a cui non servono i bonus. Tipo quelli delle facciate delle case. Domanda specifica. Ho detto, qualcuno si è ricordato di essere un giornalista. Gli aiuti, qui lo dico perché ve l'ho detto, quando aiuti sentirò ancora, perché sono sicuro che arriveranno. Ah, ma ha parlato degli aiuti. Ora, siccome la conferenza è disponibile sul canale di Palazzo Chigi, andatevi a sentire la risposta di Draghi. Abbiamo già prorogato le CIG, abbiamo prorogato le Naspi. Sì, sai che roba. Abbiamo dato 150 milioni ulteriore al settore turismo. Poi non è vero perché va diviso in tre. Turismo, spettacoli, automotive. Un turismo che perderà, secondo le stime, 1.7 miliardi. Se gli va bene se ne prende 150, se gli va male se ne prende 50. Poi valuteremo se sarà il caso di effettuare un nuovo scostamento di bilancio. Di fatto questi, di far uscire nuovi aiuti, non ci hanno proprio ancora pensato. Stanno sperando che la cosa si risolva da sola e non debbano mettere in mano altri soldi. Quando è ovvio che non si risolve da sola perché non è una cosa che si sistema in una settimana o due e il danno al tessuto economico e lavorativo invece aumenta, aumenta più passa il tempo. Ma loro fanno finta di niente. Però ci ha tenuto a far sapere e qui adesso partono le legnate a un presunto comico perché veramente, dopo ve lo dico, mi ha fatto girare i coglioni come un ventilatore che hanno rispettato i punti richiesti dall'Unione Europea per prendere la prima trans dei soldi per il PNRR che quindi non ci sono ancora. Hanno rispettato i punti? Victor Klabe che ieri nel tuo podcast ieri veramente mi ha fatto così incazzare che mi sono disiscritto. Ve l'ho detto, io sono iscritto al canale del mio paracollega anche se nove volte su dieci non sono d'accordo. Però continuo a seguirlo perché finora almeno è corrente vabbè, è un volta gabbana per quello che riguarda la politica ma almeno è corrente su certe posizioni quindi io sento quello che dice posso anche contestarlo ma gli riconosco una certa coerenza di pensiero. E sinceramente ve l'ho detto se fosse più liscia se fosse più, diciamo, liscia posteriori prenderebbe più soldi lo sappiamo come funziona sulle piattaforme ma no perché ieri il signor Klabe ha dato una dimostrazione palese visto che lui dice che non è invidioso perfetto l'invidia è un pessimo peccato ma ce n'è uno che a me fa ancora più schifo ed è il menefreghismo perché parole sue Draghi è andato là ha detto chiudiamo le fontiere ci hanno copiato tutti sì il risultato? no perché non mi sembra che quell'idea sia servita a qualcosa soprattutto perché al coccobello gliene strafotte che le fontiere sono chiuse è andato avanti tranquillamente a fare il suo cioè non è che se uno ha un'idea idiota e gli altri gli vanno dietro diventa un'idea intelligente ma siccome l'ha avuta Draghi non l'ha avuta Conte a lui per la questione Conte gli ruga perché tenne aperti i luoghi di culto ma chiusi il cinema adesso com'è la situazione? per andare al cinema deve avere il Green Pass e chi cazzo ci va? ma io devo farmi sto sbattimento per andare al cinema ma non ci vado stessa cosa per i teatri quindi ma ve l'ho detto quando capisci che davanti hai un menefreghista che a cui interessa solo di avere il proprio culo al caldo e quello degli altri non gli frega un cazzo ecco lì diciamo che arrivi a un punto e gli dici ma va a tenere quel paese fai prima dicevo quindi questi soldi non ci sono ancora e ha dovuto rispettare gli ordini di quelli che secondo Clabe lui era andato là a fare il gonfio sì sì ha fatto il gonfio e appena uscito dalla porta l'hanno chiamato guarda che i vostri punti non ci sono ancora tutti ne manca qualcuno come li sistemiamo? la scena la puoi sempre fare il gonfio capitano fracassa poi quando ti chiamano quelli che contano veramente tu puoi chiamarti come cavolo vuoi ma abbassi la cresta e pedali quello che ha fatto l'Unione Europea non facciamo sceneggiate pubbliche il mazzo te lo facciamo in privato così tu puoi fare la bella figura davanti ai tuoi quotidiani però ti ricordiamo chi effettivamente comanda dicevo di aiuti non se ne parla non se ne parla ha da domanda specifica di un giornalista del Times non della gazzetta di Vatte e la Pesca ma del Times da noi abbiamo preso un altro approccio non avete provato a pensare a un approccio differente? risposta di Draghi ha detto potete andare a vedere la conferenza è ancora lì ho già provato a pensare al nostro di approccio non posso valutare quello degli altri benissimo clave l'Italia è guida dell'Europa nella lotta al coccobello e cazzo se mi faccio guidare da un non vedente non è che rischio di finire un burrone ma per chiarire una cosa il mio paese e l'Inghilterra sono la guida globale cioè del pianeta nella lotta al coccobello nessuno dei due paesi ha messo le restrizioni a cacchio di cane come ha fatto l'Italia noi abbiamo messo determinate restrizioni ma con una certa logica e l'Inghilterra proprio manco ci ha pensato e non mi sembra non mi sembra che ci siano le scene stile l'ombra dello scorpione in Inghilterra o da noi perché? perché noi vi diciamo come stanno le cose e io ieri l'ho detto a Maria Giovanna non posso dire qui cosa pensa il nostro ministro della salute e del vostro ministro della sanità vediamo se ci arrivate attraverso questa definizione lo considera una parola che comincia per C e finisce in O che indica il singolare del contenitore riproduttivo dei maschi vediamo se ci arrivate ma è quello che perché è un pavido coniglio dove sarebbe perché se la guida è chiudiamo le frontiere il risultato si è visto ma tornando a Clare perché io si devo parlare per uno parlo con i fatti ma se è così guida l'Italia perché il mio paese vi ha messo in zona rossa perché la Germania vi ha messo in zona rossa e anche l'Inghilterra e altri paesi e vi considero un paese a rischio così è tanto per essere chiari quattro sberloni ogni tanto è meglio darli dicevo risposta appunto avete capito zero però ci ha tenuto a far sapere con l'atteggiamento di io so io perché la conferenza l'ha fatta in ritardo rispetto all'uscita della manovra di bilancio ma un giornalista se ne è sbattuto il cognone gliel'ha chiesto e lui siccome ha quella faccia sapete i ramarri non sono molto espressivi è rimasto un attimo lì così e ha detto io in queste cose non parlo benissimo se vuoi fare una conferenza in cui si parla solo degli stracavoli tuoi fatela davanti allo specchio tanto è la stessa cosa o se no chiama le annunziate i lecchini di turno che ti faranno solo le domande che vuoi tu perché ve l'ho detto la conferenza in sé è una citazione di dati sì ho capito ma il paese sta andando in pezzi e tu di queste cose non parli altra perla questa la recupero dal Corsera e da Jack che è bravissimo mi ha mandato foto per una pagina del Corsera 700.000 posti di lavoro recuperati allora a fine la ripresa di cui parla Draghi che ricordatevi l'Italia è una scesa almeno 9% è salita a 6% ma rispetto almeno 9% non rispetto a due anni prima rispetto all'anno precedente quindi non è stata una ripresa poi però bisogna leggere bene in testo in alto un po' come le clausole nascoste nelle assicurazioni boom dei contratti a termine quindi qui non sono 700.000 posti di lavoro stabili sono 700.000 posti di lavoro instabili e allora le cose cambiano è un po' come il discorso dell'Ampal che diceva ah visto abbiamo trovato lavoro a 500.000 persone poi vai a vedere stage corsi di inclusione scusate mi è avuto un tirocini scusate devo dire quello lavori a tempo determinato spesso della durata di un mese o anche meno tutto ci ha messo dentro il lavoro a tempo determinato erano 4 in croce però avete visto avete visto che abbiamo trovato un cazzo perché il compito precipuo che era inserito all'interno dell'RDC era collocare la gente almeno con contratti semestrali se tu me ne collochi 100 con contratto a un mese non hai fatto un bel lavoro hai fatto un lavoro di M punto ma anche qui andateglielo a spiegare a certi personaggi e poi scusatemi la perla per il motivo che effettivamente mi ha fatto incazzare ancora di più verso clave la questione della carica del coccobello lui si è beccato il coccobello cavoli suorce sinceramente e ha scoperto solo allora cosa significava carica V evito di dire non si sa mai che è l'algoritmo ah ma in due anni non hai trovato tempo di leggerti un paio di libri che ti spiegavano che cosa fosse la carica V del coccobello e per contestare il discorso del anch'io io che sono trizzaccato potrei averlo anche preso non lo so perché gli asintomatici non se ne accorgono andare in giro attaccarlo a qualcuno ecco però vedete quelli che sono zaccati possono attaccarlo con meno pericolo allora la retorica descritta dall'informazione italiana non dalla nostra ma dalla vostra era che chi era zaccato non attaccava niente a nessuno niente a nessuno c'è differenza tra dire niente e dire c'è la possibilità remota perché la possibilità c'è sempre le parole hanno un loro valore e se le riconosco io che non sono di madrelingua tu che sei di madrelingua anche se quando sei fuori dalle sceneggiature incespichi parecchio cerca di collegarle le cose perché quella è la realtà siccome a testa sul cazzo non so Conte io Conte l'ho criticato su fatti oggettivi a testa sul cazzo per determinate cose ti piace Draghi perché nella realtà sei un puzzone liberista di destra e non uno di sinistra l'avvocato il nostro amichevole avvocato di quartiere è di sinistra ma come si fa a definire uno di sinistra di destra se ti preoccupi dei più deboli e non della tua pancia sei di sinistra a prescindere dalla tessera perché i fondamenti i fondamenti veri del socialismo originale così era la difesa dei più deboli poi si è visto cosa è diventato ma lasciamo perdere invece poi tu puoi anche votare a destra ma fondamentalmente nel tuo cuore certe cose sono e derivano dalla cultura di sinistra tu invece caro club sei di destra probabilmente ti piacerebbe anche un po' seguire certe cacchiate che dice la Meloni ma non hai le palle che le mettono pienamente in piazza per cui ti piacciono i banchieri alla Draghi ti piacciono i neoliberisti alla Calenda e così chiudiamo su due polemiche la prima è patetica la fotografia fatta alla raggi che va a farsi la tamponatura che cazzo adesso la raggi è una libera cittadina che cazzo me ne frega di fotografarla la Repubblica ma soprattutto perché Calenda ve l'ho detto è uno che non ha se collegasse il cervello al buco del posteriore ma di parlare faremmo bene a tutti che cazzo me ne frega Calenda di dire deve far sapere se lei è zaccata o no saranno cazzi della Raggi o no perché sta parlando uno che parla di giunta ombra che aveva dei dubbi se ha già detto chiaramente che non resterà molto in giunta al comune di Roma che quando lo vedevano a Bruxelles accendevano un cielo perché era caduto un miracolo e intanto per i soldi se li prendeva stiamo parlando cioè dare dei giudizi e tici agli altri quando tu sei sei lercio scusatemi no anche no ha veramente rotti i coglioni l'ultima cosa invece del video dell'avvocato di ieri andatevelo a guardare il video che riguarda quello che è successo a Milano e la polemica a causa dell'inesima uscita del cacchio di una rappresentante del mio ex partito di riferimento cioè il PD allora quelli che hanno fatto quelle cose che qui non si possono dire perché ti segano via sono dei sacchi di concime punto non me ne frega niente da dove vengono io mi sono rotto della condiscendenza verso determinate azioni o del cercare giustificazioni verso determinate azioni quando queste cose vanno a riferimento e a perdono a danno e a detrimento della tua retorica politica sono immigrati chi se ne frega io non vedo degli immigrati io vedo delle persone che hanno fatto delle cose schifose e se queste persone non hanno la residenza scusatemi non hanno la carta per poter risiedere in Italia non hanno il permesso di soggiorno io lo sbatto fuori al caccio in culo non me ne frega niente ma io non vedo non vado in giro dicendo ah ma è un immigrato allora no me ne frega un cazzo fuori dai coglioni no la colpa è della cultura patriarcale ma che cacchio vuol dire dimmelo che cazzo vuol dire perché il problema quando si è rappresentata a Colonia anche lì poi i tedeschi non è che hanno fatto chissà che cosa dopo c'è stata la scena iniziale ma non è che ci sono andati poi pesanti come andrebbero avuto andare perché c'era un problema di retorica anche qui la stessa cosa io non vedo a me non interessa se questi qua vengono da un posto o dall'altro io dico che hanno fatto delle cose schifose e per questo vanno puniti perché io vedo la persona e non l'etichetta che gli vuoi mettere addosso e sarebbe anche ora di finirla con questa filosofia del cacchio perché poi cosa succede che i conigli della tastiera sono partiti con la shitstorm di solite frasi in riferibile tutto quanto e voi sapete che cos'è cosa condividono i conigli da tastiera e i conigli veri che si riproducono a nastro solo che i coniglietti poi crescono e diventano svegli i conigli da tastiera rimangono coglioni ma detto questo ma porra camiseia ma invece di porre l'accento su certi comportamenti ignobili portati da persone che se anche dirlo hanno un'idea del rapporto con la donna un po' da fogna no devi buttarla è stata una cosa patriarcale ma che cazzo vuol dire ma incazzati per queste cose che hanno fatto oppure non lo vuoi fare perché sai questi qui sono venuti qua e pensano di essere siccome se qualcuno gli tocca con un dito esplode una determinata parte o gli inclusi da sabiano così ricordatevi che per questa gente l'immigrato non è una persona è una risorsa è lo stesso ragionamento che dicevano gli stati confederati esplode il casino per cui loro non devono essere valutati come le altre persone perché appartengono a quella categoria ed è una cosa che mi dà il vomito allora va a tirare in ballo queste minchiate cioè una sinistra vera che difende veramente le donne non solo le donne difende le persone da certe cose dovrebbero incazzarsi a prescindere da chi le fa perché dovrebbero incazzarsi per quella cosa e non andare avanti ad etichette ma siccome la sinistra italiana è così liberale che dice che se venisse votato Berlusconi loro escono dall'aula e quando Berlusconi dice la stessa cosa Letta dice Berlusconi è un liberale ecco Letta fai una bella cosa per tutti quanti tornatene in Francia levati dai coglioni fatti spedire su una capsula di Elon Musk direttamente non so per cercare di arrivare ad Alfa Centauri levati dalle balle perché la tua idea di democrazia la tua idea di democrazia è molto simile a quella del dittatore dello stato libero di Bananas coglione quello fatti un po' i tuoi due conti ciao a tutti